Musica L'emozione di partecipare a un campionato, Michele, è il tuo primo campionato italiano? È molto importante questa gara e credo di far bene, io ci credo e già essere qua secondo me è già un onore Cristian Pieve di Soligo, campionati, sei emozionato? Sono un po' emozionato e spero di fare qualcosa perché la gara mi sembra abbastanza dura ma spero di farcela Chi vince oggi? Zato Nicola Chi vince oggi? Beghini Campionato italiano, chi vince oggi? Vinco io Pieve di Soligo, domenica primo luglio, le immagini si riferiscono alla prima delle tre prove in programma relative al campionato italiano categorie giovanili, meglio conosciute come categorie esordienti e allievi A differenza delle passate stagioni per problemi diciamo di tipo organizzativo Non saranno disputati nella stessa sede le gare sia maschili che femminili Come ben sapete quest'anno sono molte le varianti sia al regolamento che al calendario che noi tutti in verità senza nulla poter fare siamo costretti a subire Evidentemente le cose della nostra federazione non vanno al meglio e questo è di fatto il conseguente risultato Polemiche a parte ora è per noi comunque un piacere documentarvi su quanto accaduto a Pieve di Soligo o di scena le categorie maschili Esordienti del primo anno ai nastri di partenza, una quarantina i chilometri da percorrere di un tracciato facile adatto alle ruote veloci Numerose le curve dove è d'obbligo rilanciare la velocità e viale d'arrivo in leggerissima salita sono le sole difficoltà tecniche da superare Ovviamente i nostri ragazzi dovranno anche fare i conti con la temperatura estiva in quanto quella di domenica primo luglio si prospetta una giornata particolarmente calda Numerosi gli allunghi ma nella sostanza niente di fatto Gruppo che si mantiene costantemente compatto e la prima maglia tricolore verrà assegnata dopo lo sprint che come possiamo vedere è a netto favore del portacolori della formazione Foem Battistel Stefano Lira Che precede nell'occasione Davide Adamo ciclistica DRO e Daniele Luccherini Gastone Nincini L'ordine d'arrivo vede classificato al quarto posto Lolli Giordano Elia della Baby Team Jaco Bike Quinto Alberto Marini società ciclisti Castoro Sesto Leonardo Mosca della Nestor Marsciano Settimo Michele Gazzoli aspiratori hotelli Ottavo Matteo Zandomenighi della Foem Battistel Nono Yuri Passa della Garofalo Mobili E decimo Simone Buda della Fausto Coppi Cesenatico Stefano Lira, Ucifoen, campione italiano degli esordienti del primo anno Raccontaci com'è andata questa gara In salita sono morto ma ho visto che dove c'era un po' di scesa ho potuto rientrare C'è stato là e ho aspettato la volata La dedica a chi va? La squadra, la famiglia e in particolare a mia mamma Adoreto Quicks 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 Grazie a tutti.